Musica Forte incremento dei controlli effettuati dai carabinieri in provincia di Sondio, più 30% negli ultimi 12 mesi, 1500 le denunce, oggi la festa dell'arma, the two chase, sempre in prima linea durante la pandemia. Musica L'ex procuratore campo di sogno Gianfranco Avella rivive a distanza di 21 anni le indagini sull'agguato mortale a Suor Mela Laura, un diritto senza precedenti, il mio pensiero va alla religiosa presto beata. Il forum su Food and Beverage di Bormio ha segnale di ripartenza per la montagna, l'evento ha accesi i riflettori sulla Valtellina e i suoi prodotti tipici, l'agroalimentare elemento chiave per i made in Italy. Inaugurato dagli alunni dell'elementare credaro di Sondio il parco inclusivo di Via Lusardi, il polmone verde dotato di giochi e attrezzature facilmente accessibili anche ai bimbi diversamente abili. Buonasera, buonasera a tutti, sono state quasi 1500 le persone denunciate negli ultimi 12 mesi dai carabinieri della provincia di Sondrio. I controlli attivati sul territorio sono aumentati del 30%, notevole l'impegno messo in campo dall'arma per affiancare i cittadini durante la pandemia. Il quadro è emerso oggi durante la festa annuale dei carabinieri. Vediamo. 207 anni di storia per l'arma dei carabinieri è un impegno quotidiano a fianco dei cittadini che si è fatto più forte durante la pandemia come è stato sottolineato oggi a Sondrio. Durante la celebrazione austera svoltasi alla presenza del prefetto Salvatore Pasquariello nella caserma Lessi, nel periodo dal 1 giugno 2020 al 31 maggio scorso, 3.217 reati perseguiti dall'arma, il 90% del totale provinciale, aumentati dal 30% i servizi esterni che hanno superato quota 12.000. Tra le operazioni più salienti l'arresto di sei georgiani per furti messe a segno nel nord Italia da parte dei militari della compagnia di Tirano, l'articolata operazione antidroga condotta dalla compagnia di Sondrio che ha smantellato una rete di spazio nei boschi della Val Tartano. Abbiamo avuto un incremento delle pattuglie sul territorio proprio perché dovevamo non solo portare assistenza ai cittadini ma anche controllare che non si verificassero particolari reati e che fossero rispettate le norme per il contenimento della pandemia. Anche sul fronte della polizia giudiziaria non abbiamo interrotto le nostre attività, lo dimostrano le ultime 500 persone deferite tra stato d'arresto e stato di libertà, di cui oltre 100 per reati inerenti agli stupefacenti con circa 2 kg di sostanze stupefacenti sequestrate, sia droghe, comunemente dette droghe leggere, ma anche sostanze pesanti come eroina e cocaina. 15 mesi di pandemia, uno sforzo straordinario per l'arma dei carabinieri. Sì, è stato un periodo certamente difficile per tutti. Questa situazione è stato esaltato il ruolo delle nostre stazioni carabinieri, la funzione sociale dei nostri presidi sul territorio, perché la capillarità con la quale sono distribuite le varie località della nostra provincia di fatto le ha rese in molte situazioni l'unico presidio organizzato dello Stato. E questo ha comportato che non solo la popolazione, ma anche altri enti e istituzioni si sono rivolte a noi non solo per esigenze legate alla sicurezza, ma anche per esigenze di altro tipo. Mi viene in mente alcuni medici di un paesino che non riuscivano, a causa dei turni molto impegnativi, neanche a riuscire a mangiare, e quindi il nostro comandante di stazione si è organizzato per portargli il pasto, piuttosto che nel periodo di Pasqua una nostra stazione ha recapitato le uova ad alcuni bambini da parte di un'associazione, oppure la Domenica delle Palme che abbiamo collaborato per la consegna a domicilio dei ramoscelli d'ulivo, fino ad arrivare a gesti più importanti come il nostro comandante di stazione che a seguito di un sopralluogo si è accorto che una signora indigente dormiva sul divano perché non ha più neanche un letto a casa e personalmente ha provveduto a fargli recapitare un letto. Carabinieri in azione durante i giorni di chiusura delle scuole. I ragazzi avevano lasciato i libri a scuola, per cui le nostre fattuie hanno recapitato i libri e il materiale didattico a domicilio per consentire agli studenti di continuare la loro attività scolastica. Una vita donata agli altri, straziata da un delitto inspiegabile. A 21 anni dall'omicidio e a poche ore dalla beatificazione, l'ex procuratore capo di Sondrio Gianfranco Avella ricorda così l'omicidio di suor Maria Laura Mainetti. Sentiamo. Un delitto senza precedenti per una vittima che aveva donato tutta la sua vita agli altri. Gianfranco Avella, ex procuratore capo di Sondrio, ricorda così l'omicidio di suor Maria Laura Mainetti, la religiosa di chi avvenna assassinata da tre ragazze il 6 giugno 2000, che domenica sarà beatificata. Un ricordo ancora vivo oggi nel magistrato che coordinò le indagini. Io ho sempre avuto la sensazione di questo stranissimo delitto, perché non era mai avvenuto, nessuno poteva concepire che tre minori si fossero accordati per uccidere una suora, e in più che questi tre minori fossero tre ragazze, per di più abitanti in una località diciamo piccola. Quindi un delitto che ha qualcosa di assolutamente strano, senza precedenti. Uno dei delitti più strani che si siano mai verificati. Detto questo, sulle ragazze, poi è avvenuto quel che è avvenuto, hanno poi confessato presto. Il ricordo però va a quella suora, a quel corpo che era rannicchiato, tutto piccolo. Lo ricordo ancora visivamente, ancora oggi, lì all'inizio di quel vialetto, che da solo via poi io tengo, mi ha fatto appena un'impressione enorme. Poi una figura bellissima, perché senza nessun interesse andava a aiutare chi aveva bisogno. E questo è il messaggio profondo che ha lasciato e che certamente l'ha portata alla beatificazione. Ha richiamato a Bormio esponenti di spicco del settore agroalimentare italiano che rendono grande il nome del Made in Italy in tutto il mondo. Grande successo per la quinta edizione del forum sul Food & Beverage che ha acceso i riflettori sulla Valtellina e sulle nostre produzioni tipiche. Vediamo. Come ripartire? Su quali basi? E' questa la domanda al centro della quinta edizione del forum, la roadmap del futuro per il Food & Beverage, promosso da The European House Ambrosetti, svolta a Bormio. Una due giorni densa di confronti e riflessioni da parte di esponenti di spicco del mondo agroalimentare italiano, a cui si sono aggiunti contributi di sportivi, nutrizionisti ed esperti economici. Tutti insieme per un focus sui consumi, sulle nuove abitudini degli italiani, sull'export ma anche sul legame tra cibo e territorio, salute e sport. Una vetrina prestigiosa per la nostra provincia e in questi giorni capitale dell'agroalimentare. Importante farlo in Valtellina proprio per esaltare le potenzialità che un territorio come questo può offrire al paese Italia, in termini di conoscenza, di cultura, di turismo, ma soprattutto offrendo dell'eccellenza nel settore agroalimentare e partendo proprio da Bormio per far capire quanto può essere centrale il ruolo che l'agroalimentare avrà nel rilanciare il settore economico dell'intero paese, sia in termini di consumi interni, ma soprattutto puntando sempre di più alle esportazioni del nostro agroalimentare. Sancisce in via definitiva che la montagna è in grado di competere, di produrre e di fare la differenza portando nei suoi prodotti qualcosa che ognuno di noi, degli uomini della nostra terra, ha nel cuore. Pertanto credo sia un segno importante e mi auspico sia il primo e che possa da qui partire un grande progetto di filiera a Valtellina ancora più capace, ancora più differenziata, ancora più in grado di proporre i nostri valori al consumatore finale. Possiamo definire questo evento il primo appuntamento importante per la ripartenza? Io direi di sì, si è già mosso il mercato, stiamo ripartendo. Questi eventi servono proprio al confronto, soprattutto per tutta la filiera, per andare uniti non solo qui, ma poi anche fuori in tutto il mondo. La ripresa c'è, si vede ed è sostenuta, ci sono però grandissime incognite, grandissime criticità legate naturalmente all'andamento dei mercati in generale, ma il tema delle materie prime che è trasversale su tutti i settori è un tema che destra grande preoccupazione, su cui occorre comunque concentrare molta attenzione. Finalmente in presenza, direi le più grandi realtà del mondo agroalimentare, qui si incontrano proprio per parlare dei temi di food, di sana e corretta alimentazione e di stili di vita. E quindi è un'occasione interessante per fare networking, per conoscere anche le altre realtà del settore italiano più importanti che proprio hanno a cuore questi temi. Tenere qui in provincia di Sondrio questo momento così importante per il settore del food and beverage di tutta la filiera italiana è un'occasione per noi, un'occasione in vista anche dell'Olimpiade e un'occasione per ripartire. La speranza è che possiamo cogliere questi momenti come una risorsa importante. Se facciamo conoscere le nostre peculiarità, le nostre ricchezze, sono certo che potremo riuscire in maniera vincente anche da questo brutto momento. Stiamo in Altavalle, stamattina il passo del Gavi è stato riaperto ed è raggiungibile da entrambi i versanti. A comunicarlo Anas che nei giorni scorsi aveva avviato le attività di sgombero neve, di pulizia della sede stradale, la rimozione di arbusti pericolosi, la sistemazione della pavimentazione necessaria per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità su entrambi i versanti del passo. Il Comune di Livigno annuncia con apposita ordinanza che a partire dalle 6 di lunedì 7 giugno riapre al transito, ai mezzi con massa non superiore ai 180 quintali, il passo della Forcola. Dopo la riapertura degli spazi interni di bar e ristoranti si registrano già buoni segnali di ripresa. Le persone hanno voglia di uscire, le prenotazioni sono in aumento, ma per tornare a regime attendiamo un ulteriore allentamento delle restrizioni, così Fabio Valli, Presidente dell'Unione Commercianti, del mandamento di Tirano. Vediamo. Le restrizioni si allentano e l'economia ne sta già beneficiando. Il via libera ai pranzi, alle cene al chiuso e al caffè al banco sono decisivi per la ripresa che non dipende più dalla complicità del bel tempo. C'è ancora il limite massimo di 4 persone al tavolo se non conviventi, ma le norme meno stringenti vedono un aumento delle prenotazioni. Diciamo che un barlume di inizio l'abbiamo già avuto col mese di maggio, però il discorso soprattutto del meteo ci ha penalizzato perché soprattutto noi qua, essendo a una certa altezza, abbiamo faticato per le condizioni del meteo a poter lavorare solamente all'esterno. Abbiamo fatto qualche servizio a pranzo, a mezzogiorno, però la sera era impensabile. Quanto influisce la possibilità di poter mangiare anche all'interno? Potendo adesso servire anche all'interno, gradatamente, pian piano, stiamo tornando alla normalità. Tant'è che abbiamo notato subito un aumento importante delle prenotazioni, sia per quanto riguarda la ristorazione che per quanto riguarda le prenotazioni in albergo per la prossima stagione estiva. Si resta quindi in attesa delle prossime tappe sulla tabella di marcia di Draghi, quella del 7 giugno con il coprifuoco posticipato di un'ora e quella del 14 con l'ingresso della Lombardia in zona bianca. L'auspicio è di poter tornare sicuramente a un regime normale che riprenda le nostre attività tutte assieme in modo ottimale, che la prossima stagione estiva ricalchi i numeri e le presenze di quella dello scorso anno che nonostante tutto è stata buona e poi noi soprattutto qua nella media valtellina, a Teglio in particolare, auspichiamo che l'autunno sia come gli anni precedenti, come 2019 e precedenti appunto perché noi presentando e proponendo la nostra segna nuova astronomica sapori d'autunno e pizzocco d'oro, come si sa, è la nostra seconda estate per cui la nostra stagione diciamo che parte già da adesso e si portrà fino alle soglie dell'inverno. Per cui l'augurio mio e di tutti gli operatori è quello veramente di poter tornare alla normalità, di poter lavorare bene per tutto il proseguio dell'anno. Un parco dove tutti i bambini sono i benvenuti, nessuno escluso. È stato inaugurato a Sondrio in Via Lusardi a tenerlo a battesimo i bambini della Primaria Credaro. La città vuole essere sempre più inclusiva. Un parco per tutti i bambini, nessuno escluso, si trova in Via Lusardi a due passi dal centro di Sondrio. È stato simbolicamente consegnato ai bimbi della Primaria Bruno Credaro accompagnati dai loro insegnanti da Marianna Azzola, garante dei diritti dei disabili del Comune di Sondrio. Tra le novità un percorso a pannelli ludici e una serie di altri giochi di natura inclusiva. La pavimentazione in gomma garantisce sicurezza e igiene, mentre il nuovo vialetto ricavato all'ingresso del parco consente un facile accesso anche ai bambini con disabilità. Questo è il primo parco realmente inclusivo della città, quindi è un percorso che grazie al bando di regione Lombardia abbiamo voluto intraprendere e sicuramente è un bel messaggio, un'azione concreta ed efficace verso l'inclusione che è sicuramente un'azione importantissima a cui l'amministrazione ha sempre tenuto e terrà sempre. Lo significa parco inclusivo? È un parco dove si possono condividere dei giochi, dove i bambini con diverse abilità e i bambini diciamo normodotati possono giocare e incontrarsi. Un intervento da 36.500 euro finanziato per 30.000 euro grazie al contributo ottenuto da regione Lombardia, la parte restante attingendo da fondi comunali. Quest'area di Via Lusardi è da sempre un'area molto importante di gioco in città, ma abbiamo deciso di implementarla e di renderla totalmente inclusiva partecipando al bando. È andata bene, abbiamo ottenuto un finanziamento di 30.000 euro che ci ha permesso di realizzare la nuova pavimentazione e inserire una serie di giochi che garantiscono la piena accessibilità e inclusività a tutti i bambini, quindi anche i bambini che hanno delle difficoltà motorie o intellettive. Quindi sono dei giochi sia sensoriali che fisici, diciamo, in futuro potremo fare operazioni analoghe anche su altre realtà cittadine. Ho diritto a una famiglia, all'amore della mia amiglia, ho diritto all'istruzione, al piacere di una canzone. Una canzone animata nel quale è stata utilizzata anche la lingua dei segni per includere la nostra bambina sordomuta. Stiamo lavorando in questo senso proprio perché lei possa partecipare sempre di più a tutte le nostre iniziative. L'inclusione per noi ogni giorno è un motivo di studio e di ricerca di nuove attività. Cosa ne pensi di questo parco? Bellissimo, guardi, è una compagnia per me che sono alla finestra e guardo tutti i bambini. Bellissimo, a Roma i barchi così puliti non ci sono, solamente qua a Sondrio. Infatti io da qua non me ne vado più. Bene, siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento sul web, il nostro sito teleunica.com, li trovate anche alla nostra web tv, alla nostra presenza sui social. Buon fine settimana!